Com'è andata l'estate? Oh, uno schifo. Pensa che non ho avuto il minimo scandalo. Sono proprio disgustata, sai. Mi hai fatto tirare sulla pelle. Non è il caso. Beh, vedremo. Sì, e devi dire a lui che sono in calva anche con lui. Non si fa mai vivo. Sempre lavoro, lavoro, lavoro con quella... È stato molto occupato. Non dà diretta. Venite una sera. Faremo una cenetta a quattro. Oh, questo mi fa piacere. Cosa? Ti avevano detto che mi ero sgacciata. Non sapevo se era vero. Oh, che idee.